CD2-300 CD2-300 Macchina ideale per levigare grezzo e verniciato su profili a tre lati. La CD2-300 è la macchina ideale per levigare grezzo e verniciato su profili a tre lati, fino a 300 mm di larghezza e 100 mm di altezza. Quickwood, spazzole e macchine per trattare qualsiasi forma e superficie.